Pablo Picasso in 208 opere. Oli, gouache, disegni, ma anche incisioni, le raccolte Celestine e Tauromachia. Il Convitto delle Arti di Noto ospita una delle panoramiche più complete sul percorso artistico del grande genio spagnolo, sulle sue grandi passioni nella vita. Le donne, il circo, ma soprattutto la Tauromachia. Picasso, come si può ammirare nella mostra a Noto, ha saputo trattare tutte le tecniche che compongono il mondo dell'arte, dalle tele al disegno alle incisioni sino alle ceramiche. Questa esposizione prende tutta la tematica in cui Picasso ha lavorato e in fondo è quello che lui senteva, quello che era importante per lui. La mostra dedicata a Picasso si scrive nelle 31 mostre pensate dal comune di Noto sino ad ottobre che faranno della cittadina barocca una capitale d'arte per attrarre sempre più un turismo d'elite. Siamo convinti che Noto può essere il punto di riferimento per tutto il Val di Noto in ambito di cultura e arte, che sono elementi fondamentali per attrarre la qualità del visitatore. L'inaugurazione della mostra è stata anche l'occasione per illustrare il programma completo di Noto città d'arte. Picasso è noto, come è stato battezzato l'evento, resterà visibile sino al 30 ottobre.